Noi siamo in aiuto tra di noi continuamente perché questa è una coalizione che governa il Paese e deve essere concentrata a questo. Dopodiché le opinioni possono essere divergenti, se no saremo un partito unico, non saremo tre partiti e poi su questo ci si confronta e come al solito si trovano le soluzioni.